Ben ritrovato Popolo Viola, oggi non ci concentreremo sull'allenamento, nonostante i ragazzi siano già in campo, ma dedicheremo questo nostro Viola Blog a un portiere molto speciale per la nostra Fiorentina, il compleanno di Sebastian Frey. Misser Prandelli, buongiorno, oggi il compleanno di Sebastian Frey è stato con lei per tanti anni. Sì, tanti anni, tanti auguri Seba, mi raccomando pochi dolci perché sai che puoi avere qualche problemino. A parte le battute è un onore, è un piacere fare gli auguri a un grande Seba, un grande uomo, è stato uno degli artefici più importanti della Fiorentina. Il messaggio che gli posso dare è che questa è casa tua, quando vuoi, vieni, vogliamo abbracciarti, vogliamo ricordare i bei tempi, tanti auguri Seba. Dario Dainelli, oggi il compleanno di un tuo ex compagno di squadra, vogliamo fargli gli auguri anche pubblicamente? Certo, auguri a Seba Frey, ci siamo già sentiti questa mattina e lui gli ho mandati per messaggio, quindi li rinnovo sui social. C'è qualche sketch che ci vuoi raccontare? Siete stati tanti anni insieme appunto nella stessa squadra, qualcosa di divertente? Ma con Seba siamo stati cinque anni insieme, cinque anni belli e con ottimi risultati, quindi di cose divertenti ce ne sarebbero tante. Ma non si possono raccontare? Tante no! Ma non si possono raccontare?